Cinque anni di centrodestra guida Marsiglio in regione, cinque anni di centrodestra a Montesilvano e a Città Sant'Angelo. Eppure la montagna di rifiuti sul fiume Saline è ancora qui. Tutti questi rifiuti sulle sponde di un fiume a poca distanza dal mare, dal comune di Montesilvano e da quello di Città Sant'Angelo. Cinque anni in cui il centrodestra guida Marsiglio ha avuto un'eredità di 10 milioni di euro di fondi Masterplan che nel 2016 erano stati stanziati dall'amministrazione di centro-sinistra a guida d'Alfonso. Cinque anni in cui non è stato prodotto un progetto ma solo studi di fattibilità, cinque anni in cui è stato preferito uno studio di fattibilità sull'incapsulamento mentre con i gruppi consigliari del comune di Montesilvano e di Città Sant'Angelo noi chiediamo che ci sia la rimozione integrale dei rifiuti. Cinque anni in cui ci dice l'Arta che c'è ancora inquinamento sulla bonifica, c'è ancora inquinamento sul Saline, il Saline quando è in piena entra e tocca, mette a bagno 10.000 metri cubi di rifiuto che sono sotto il livello del mare, cinque anni in cui non si è portato avanti neanche la misura di messa in sicurezza di emergenza e l'inquinamento ancora continua. Cinque anni di fallimento della giunta Marsiglio.